TimeVision ricerca un assistente alle vendite per azienda cliente operante nel settore della moda a Castellammare di Stabia. Si ricerca anche un impiegato o impiegata ufficio amministrativo, sempre per azienda cliente operante nel settore della moda a Castellammare di Stabia. Ed infine TimeVision ricerca un impiegato amministrativo-esecutivo per cliente operante nella realizzazione e nella distribuzione dei prodotti energetici a Nola, in provincia di Napoli. Bentrovati con il Tg Lavoro di TimeVision, il format che ti mantiene sempre aggiornato su tutte le offerte di lavoro presenti sul territorio nazionale. Come anticipato dai titoli, andiamo a vedere nel dettaglio le offerte di lavoro della settimana. TimeVision è alla ricerca di un assistente alla vendita per azienda cliente operante nel settore della moda. La risorsa sarà responsabile dell'assistenza all'interno dello store e quindi si occuperà di accoglienza dei clienti, della gestione della merce in arrivo, del deposito e degli scaffali, ma anche della sistemazione del punto vendita. I requisiti richiesti sono esperienza anche minima nella mansione, conoscenza dei sistemi di pagamento e delle tecniche di vendita, predisposizione alla crescita professionale e formazione interna. La sede di lavoro è a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli e l'orario di lavoro è full-time. TimeVision ricerca anche un impiegato o di impiegata ufficio amministrativo. La risorsa si occuperà del processo amministrativo di base. Nello specifico, la risorsa dovrà avere una conoscenza di base della contabilità, della fatturazione e della corrispondenza delle mail. Ed inoltre la risorsa dovrà predisporre delle attività di carico e scarico merci, con relativa documentazione e movimentazione logistica. I requisiti richiesti sono esperienza anche minima nella mansione, buona conoscenza del pacchetto office, predisposizione alla crescita professionale e formazione interna. La sede di lavoro è a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli e l'orario di lavoro è full-time. Ed ancora TimeVision ricerca per azienda cliente operante nella realizzazione e nella distribuzione dei prodotti energetici, un impiegato amministrativo esecutivo. I requisiti richiesti sono laurea triennale oppure magistrale in economia o finanza, esperienza anche minima nella mansione, aggiornamento e sviluppo dei compiti assegnati, osservazione dei doveri d'ufficio ed anche predisposizione ai clienti. La sede di lavoro è a Nola, in provincia di Napoli e l'orario di lavoro è full-time. Sei interessato ad una di queste offerte? Allora clicca il link che vedi nell'info box oppure visita il nostro sito lavoro.timevision.it